Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano. Oggi andiamo a parlare di Google Calendar. Molti di voi magari già lo conoscono, il calendario di Google, dove andare a mettere tutti i nostri impegni, dove andare a mettere ad esempio compleanni ed altre cose che ci dobbiamo assolutamente ricordare. Magari molti di voi già la stanno utilizzando, ma non la utilizzano magari al 100%, quindi questo video è fatto anche per te. Se invece non la stai utilizzando, io ti raccomando davvero di andarla ad utilizzare. Infatti tantissimi impegni si affastellano ogni giorno nella nostra vita di tutti i giorni e quindi dobbiamo avere una traccia di tutto ciò che noi dobbiamo andare a fare e Google Calendar è una delle applicazioni migliori che stanno sul mercato. Basta avere un account di Google. Oggi andremo a vedere dunque come inserire dalla A alla Z tutti i nostri appuntamenti ed andarli a gestire al meglio. Inoltre rimani fino alla fine perché ti darò anche dei piccoli trucchi in cui possiamo andare a vedere come ad esempio andare ad inserire alcune cose nuove, nuove possibilità di Google Calendar. Prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale. Dai, a te non costa nulla per me, è un grandissimo, enorme favore. Questi sono tutti gli altri miei social e ti aspetto sul canale Telegram. Tantissime offerte a settimana. Ultimamente ho aperto anche una pagina Patreon. Le potrei andare a ritrovare tutto lo script, quindi tutte le cose che ho detto fai questo, clicca qui, entra qui, così che magari ti potrai andare a barcamenare su tutte le cose che stiamo facendo. Ma non solo questo, dovrai andare a trovare tutti quelli di tutti gli altri video compresi i miei corsi. Ed inoltre anche alcuni approfondimenti, ad esempio alcuni trucchi di Google Calendar che non facciamo in tempo qui a dirli tutti. Ora non ci resta che partire con Google Calendar. Eccoci quindi all'interno di un nostro account di Gmail da cui possiamo accedere al nostro calendario e con questo video riverremo davvero espertissimi del nostro calendario. Eccolo qui, lo andiamo ad aprire. La schermata principale vediamo che ci dà tutti i nostri appuntamenti del mese e poi potremo andare a decidere la visualizzazione. Qui a sinistra abbiamo tutta l'impostazione mese per mese del nostro anno e lo puoi andare a ritrovare. Nel caso in cui vado in un altro mese posso andare qui da subito ad inserire alcuni appuntamenti. Posso farlo anche qui, vediamo che posso andare a scorrere tutti i mesi e per tornare immediatamente a dove ero e quindi ad oggi basta cliccare su oggi e torno immediatamente alla schermata di partenza. Qui abbiamo tutti i nostri calendari e vediamo che posso andare ad inserirli e impareremo anche ad inserire nuovi calendari. Nel caso in cui voglio andare a vedere solo alcuni calendari posso andare a deselezionare tutti gli altri così che rimarrà soltanto quello a cui noi siamo interessati e poi li possiamo anche andare a rimettere tutti. Qui abbiamo altri calendari che Google ci mette a disposizione. Vediamo che possiamo andare a mettere ad esempio i calendari delle fasi lunari, delle festività cristiane e delle festività in Italia e ne possiamo anche andare a scegliere molti molti di più e lo vediamo dopo. All'interno della visualizzazione vediamo che qui in alto a destra invece abbiamo tutte le impostazioni e c'è un altro video sulle impostazioni di Google Calendar che puoi andare a vedere. Qui abbiamo le varie visualizzazioni e le vediamo subito. Posso andare nella visualizzazione giornaliera e cioè farmi vedere solo ciò che abbiamo oggi oppure nella visualizzazione settimanale qui possiamo anche andare a decidere quanto è lunga la nostra settimana oppure la visualizzazione mensile che è quella che avevamo prima la visualizzazione annuale nel caso in cui voglio avere tutto l'anno a disposizione oppure programmazione. Ecco programmazione vuol dire che vado a vedere soltanto i giorni vedete che ci sono dei salti dal momento che vado a vedere solo i giorni impegnati e questo è molto interessante nel caso in cui voglio andare proprio a rendermi conto di quante cose ho da fare nel mio mese o in tutto il mio calendario. La mia preferita te lo dico è quella mensile in cui posso avere proprio lo schema del mese certo se sono a cavallo tra due mesi non è eccezionale però questa diciamo che ti dà l'impostazione di quante cose hai da fare. Per ricercare degli appuntamenti basta andare qui su cerca e quindi se ad esempio io metto youtube vado a vedere che già mi dà tutte le va i vari appuntamenti che ho oppure posso andare a cliccare vediamo come me li fa vedere tutti quanti quindi andare a sfruttare anche la potenza del motore di ricerca di google. Se torno indietro torniamo alla nostra schermata di partenza. Come si fa ad inserire un nuovo appuntamento? Bene abbiamo diversi modi in particolare tre modalità. Il primo è quello di andare a cliccare qui su più e quindi crea e vediamo che mi dà una schermata di appuntamento in cui posso andare ad inserire le cose principali oppure se magari il mio appuntamento è per il 19 posso andare a cliccare una volta e vediamo che torno alla schermata che avevo visto prima andando a cliccare sul più oppure posso andare a cliccare due volte su una casella cliccando due volte vediamo che ho l'intera predisposizione e tutto ciò che posso andare a fare per un nuovo appuntamento. Io qui lo chiamo appuntamento di prova e vediamo che possiamo andare a decidere tantissime cose. Bene il tasto salva lo andiamo ad utilizzare solo nel momento in cui abbiamo già finito. Questa è una cosa molto importante perché mi va a decidere il giorno ed inoltre me lo dà di default tutto il giorno. Invece se io voglio andare a settare un orario basta che deseleziono qui e vado a mettere l'orario che a me più interessa magari dalle 11 alle 11 e 30 qui abbiamo una cosa importante e cioè il fatto che questo è un evento una tantum cioè non si ripete ma nel caso in cui si ripeta ogni giorno immaginiamoci che dobbiamo fare un calendario per i nostri studenti di andare a fare gli esercizi di matematica oppure io debbo fare gli esercizi ogni giorno per i miei addominali oppure ogni settimana di venerdì oppure ogni mese il terzo venerdì perché lui capisce che questo è il terzo venerdì di febbraio in questo caso oppure ogni anno utile per i compleanni tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì oppure posso andare a personalizzarlo e vediamo che qui posso dire che si ripete magari il martedì il venerdì la fine posso andare a decidere dopo quando andare a far finire il mio appuntamento io magari gli dico mai oppure dopo quando devi iniziare l'appuntamento io gli dico la fine mai gli dico che si ripete ogni martedì e venerdì e gli dico di fine qui possiamo andare ad aggiungere dei dettagli e cioè andiamo a vedere come posso aggiungere una videoconferenza andiamola a mettere subito vedete che posso andare a mettere una videoconferenza di meet andiamo a vedere come io ho aggiunto anche le conferenze di teams e come fare andare a aggiungere lo vediamo subito e cioè vediamo che se qui andiamo a cliccare i componenti aggiuntivi posso andare ad inserire dei componenti aggiuntivi di tutte le piattaforme vediamo se ad esempio volessi zoom posso andare a pianificare anche le call con zoom o con sisco o con gizzi insomma le maggiori a me interessavano google meet e teams e le sono andate a mettere qui se vado a mettere su google meet vediamo che mi crea automaticamente il link che dovrò andare a condividere con tutti i partecipanti e me lo dice da subito fino a 100 partecipanti qui posso andare ad aggiungere una posizione e cioè utile io la uso perché davvero non sono capace di ritrovarmi da nessuna parte posso andare ad aggiungere una posizione per andare magari un appuntamento e lo segno non so due mesi prima mi danno la posizione e poi me lo vado a scordare qui abbiamo una notifica e cioè qual è la notifica ad esempio 30 minuti prima e potrei aggiungerle delle altre magari andando a notificare per email magari dieci minuti prima oppure due giorni dieci giorni prima due giorni prima eccetera eccetera io per ora glielo tolgo qui vediamo che posso andare a scegliere il calendario perché ho aggiunto più calendari e poi vediamo come posso andare a scegliere anche il colore nel caso in cui magari voglio andare a mettere dei colori diversi qui è di metterlo occupato disponibile nel caso in cui hai dei calendari con altre persone condivise se tu metti disponibile vuol dire che durante questo appuntamento tu puoi essere disponibile per altri appuntamenti io metto occupato la visibilità vediamo che è pubblico privato nel caso in cui ho dei calendari che sono pubblici o privati e qui è una descrizione io spesso la vado ad aggiungere nel caso di appuntamenti in cui mi devo andare a ricordare cose particolari andiamo sulla parte di destra in cui posso andare ad aggiungere degli invitati ad esempio se io voglio andare ad aggiungere altre persone a questo appuntamento e quindi fare una call con diverse persone lo posso andare ad aggiungere qui andando a digitare le loro email a questo punto vediamo che quando poi andrò a cliccare su salva mi andrà a chiedere se voglio che alle persone invitate siano inviate delle notifiche possiamo andare a fare in modo che coloro che partecipano all'evento possono andare possono andarlo a modificarlo oppure ad invitare altre persone e vedere l'elenco degli invitati una volta che ho settato tutto e qui abbiamo visto davvero la maggior parte delle cose che posso fare vado a cliccare su salva vediamo che mi chiede se vuole inviare un email di invito a coloro che sono inviati invitate io gli dico di inviarle quindi in questo momento anche le altre persone avranno questo appuntamento di prova andiamo a guardare vediamo che sta messo qui se io vado avanti vediamo che l'appuntamento di prova è ogni martedì guardate ed ogni venerdì perché avevamo settato senza una fine che questo si ripeteva ogni martedì ed ogni venerdì vado ad oggi e torno sulla mia schermata iniziale ora andiamo a vedere come modificare un appuntamento nel caso in cui ho sbagliato qualcosa posso tornare sul mio appuntamento allora se clicco una volta come al solito ho questa schermata in cui posso andare a modificare solo alcune cose chiaro che se clicco due volte lo abbiamo visto prima oppure se vado su modifica evento entro nella schermata generale in cui ho tutte le impostazioni nel caso in cui magari ho sbagliato e non è ogni settimana di martedì venerdì lo vado a cambiare qui oppure tante altre cose andiamo ad esempio a modificare non so l'orario e andiamo a mettere in rosso e gli dico di salvare a questo punto vediamo che mi chiede se modificare soltanto questo che ho cliccato oppure tutti quelli successivi cioè li vado a modificare tutti quindi tutti mi diventeranno rossi tutti mi diventeranno dalle 10 30 alle 11 io gli dico tutti gli eventi ed inoltre dal momento che abbiamo degli invitati mi chiede se inviare delle email a coloro che erano invitati così avranno anche loro una modifica qui posso andare ad aggiungere un messaggio e dire guardate mi ero sbagliato ho aggiunto 10 30 11 e l'ho messo in rosso e gli dico di inviarlo a questo punto vediamo che il nostro appuntamento ogni volta è stato spostato alle 10 30 ed è diventato rosso eccolo qui come fare ad aggiungere altri calendari andiamo qui sulla sinistra e vediamo che c'è un più qui possiamo andare ad iscriverci ad un calendario che qualcun altro ci manda creare un nostro nuovo calendario lo vediamo subito sfogliare i calendari di interesse vediamo che abbiamo non so festività cristiane festività ebraiche possiamo avere molte cose sugli sport purtroppo qui siamo insomma costretti a vedere gli sport un po più americani chiamiamolo così oppure sulle fasi lunari se torniamo indietro andiamo ancora su più e possiamo andare a vedere aggiungere un calendario da un url e cioè ad esempio dei calendari pubblici che ci sono in giro per la rete oppure importarlo questo molto importante per chi magari ha già un calendario non so su altre piattaforme andiamo a ne uno nostro basta che vado su crea nuovo calendario e lo chiamo come al solito prova qui posso andare a mettere una descrizione se magari vado ad invitare altre persone sapranno la descrizione qui posso andare ad aggiungere un fuso orario e gli dico immediatamente di andare a creare il calendario a questo punto lui lo sta creando e lo vado a ritrovare qui sul prova se ci vado a cliccare vediamo che abbiamo tutte le impostazioni e ne sono davvero tantissime per quanto riguarda il mio calendario nuovo ad esempio potrei andare a vedere le autorizzazioni di accesso andare ad ottenere un link condivisibile quello che dicevamo prima e cioè rendere il mio link il mio calendario pubblico a tutti coloro che hanno un link le condivisioni potrei andare ad aggiungere altre persone ad esempio del mio team ad esempio della mia famiglia e così via potrei andare a vedere a gestire le notifiche tante tante altre cose guardate qui davvero ne sono molte le posso andare a gestire tutte quante una volta che l'ho aggiunto vediamo che lo ritrovo anche qui sui miei calendari e ad esempio possiamo andare a scegliere un colore particolare in modo che anche visivamente ogni volta che vado a mettere un evento con il calendario prova lo vado a ritrovare in arancio direi che abbiamo visto tantissime cose sul nostro calendario ti ricordo che sulla pagina patreon se diventi mio sostenitore potrai andare a ritrovare tutti gli altri script di tutti gli altri video e quindi andare a ritrovare in pdf clicca qui fai questo e anche tutti gli altri miei corsi ed inoltre degli approfondimenti in questo caso un approfondimento sull'uso del calendario e cioè su come dovrebbe essere utilizzato un calendario e andarlo a mettere nel migliore dei modi possibili ora ci vediamo dall'altra parte il primo impegno che ti devi prendere e andare a segnare sul tuo calendario è iscriviti al canale di mariano pierantozzi infatti da te non costa nulla per me un grandissimo enorme favore nemmeno te lo immagini questi sono tutti gli altri miei social ti aspetto sul canale telegram perché ne siamo davvero tantissimi e aspetto anche te ti darò tantissime offerte a settimana se ti abboni sulla mia pagina patreon potrai andare a trovare questo script quindi queste cose da fare scritte sul pdf tutti quelle che già abbiamo fatto in formato pdf e poi così ti potrai andare a fare una raccolta per andarti a barcamenare su tutte le cose che noi stiamo dicendo e quindi ora non mi resta che salutarti augurandoti un ottimo studio un buonissimo lavoro e salutandoti con il mio ciao ciao grazie grazie alla prossima fallire passavamo le serate a parlare di malanni congetture e le fobie è la mia grande panofobia fallire passavamo le serate a parlare di malanni congetture e le fobie è la mia pagina